Buongiorno a tutti. Mancano pochi giorni. Al 22 ottobre la data è indicata dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta computerizzata relativa al concorso straordinario per i docenti di scuola secondaria. Arrivano già i primi verdetti dei giudici amministrativi sui ricorsi proposti avverso i bandi. In particolare i bandi di concorso sono stati censurati su più parti, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di accesso. Sappiamo che il bando in particolare richiedeva il possesso di tre anni di servizio specifico prestati tutti presso la scuola statale ed ecco che sono stati proposti alcuni ricorsi che da un lato o contestavano la possibilità di partecipare al bando solo col servizio specifico, quindi escludendo il servizio non specifico, o escludeva il bando il servizio prestato presso la scuola paritaria ai fini della maturazione dei tre anni, o comunque non considerava ammissibile il servizio misto prestato in parte sul posto comune e in parte sul sostegno, ed altre tipologie di ricorsi che sono stati proposti sempre avverso il bando. Il Terlazio, confermando un atteggiamento restrittivo, particolarmente restrittivo, su questi ricorsi collettivi in materia scolastica, ha iniziato a respingere i primi ricorsi riguardanti la procedura del concorso straordinario, in particolare quelli riguardanti la possibilità di accedere con i tre anni o parte dei tre anni richiesti prestati con servizio su posto di sostegno, ovvero prestati con servizio su scuola paritaria, ovvero con servizi maturati al di fuori del limite temporale indicato dal bando. Il Terlazio si è rimesso sostanzialmente alla discrezionalità del legislatore del 2019 che aveva previsto questi requisiti per l'accesso al concorso straordinario, ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore, quindi immune anche dalle censure di incostituzionalità che erano state sollevate in ricorso. Vedremo se questo trend negativo in primo grado verrà o meno confermato in appello, perché quella del Consiglio di Stato è l'unica strada ormai rimasta per i ricorrenti. Grazie ed arrivederci. Grazie a tutti.